eccoci di nuovo insieme con dalla parte degli animali ed è venuto il momento di darvi tutti i dettagli per adottare questo signorino bellissimo che si chiama eric insieme alla sua sorellina che si chiama ariel ed alessandra russo ci racconta la loro storia loro arrivano dalla puglia sono una cucciolata di quattro cagnolini trovata per strada loro sono per un'anomalia genetica nati senza pelo completamente sono due cuccioli di circa tre mesi hanno un buon carattere sono simpatici divertenti giocosi e poi sono due cucciolini riempiranno di allegria la vostra casa proprio come farà george che questo meraviglioso cagnolone di circa quattro anni che ha portato rumina lui e george è stato trovato vagante per le strade della lombardia con una corda attaccata al collo l'abbiamo recuperato lo abbiamo portato una pensione e vive in gabbia da quattro anni pensate quattro anni in una gabbia lui ha cinque anni e un cane dinamico che ha voglia di fare attività e cerchiamo per lui una famiglia attiva che abbia voglia di fargli conoscere il mondo diamo quindi subito i numeri di telefono per adottare i nostri tre meravigliosi quattro zampe cominciamo da ariel ed eric tre mesi alessandra allora il numero di telefono è 3 8 0 3 7 1 7 9 3 8 se invece volete dare finalmente una casa al nostro meraviglioso george romina numero 3 8 0 6 8 7 7 7 7 4 oppure come sempre potete scrivere a porta mia casa chiocciola dalla parte degli animali punto it